Che succede se vince la Harris? Che succede se vince Trump? Allora la rete è già piena zeppa di tutte le analisi possibili e immaginabili su quello che potrebbe accadere qualora vincesse la petalosissima regina dei dem Kamala Harris oppure il tycoon Donald J. Trump. E se la casa bianca tornasse ad essere rossa? E se la casa bianca rimanesse blu? Ovviamente sto parlando dei colori rispettivamente dei repubblicani e dei democratici, democratici tra molte falangi di virgolette, che di democratico ne hanno ben poco. Però ecco queste analisi spesso cadono nei due estremi, cioè di chi dice tanto non cambierà assolutamente niente e chi invece dice no no qualora vincesse Trump scenderebbe dal cielo il nuovo San Michele Arcangelo con tanto da spada di fuoco pronto a far fuori i demoni e a riportare l'ordine, la giustizia e il bene sulla faccia della terra. Ecco le due analisi secondo me sbagliano, peccano un po' di ingenuità, un po' di tifo se vogliamo. Dovremmo riscoprire un po' quella che era la saggezza degli antichi quando dicevano in medio stat virtus, cioè nel mezzo sta il giusto, il pensiero un po' più razionale in questo caso. Ora per quanto riguarda le politiche interne di Trump e della Harris, vi rimando a un bel video fatto da Progetto Razzia, un canale molto interessante, che viene curato da Diego, il ragazzo davvero in gamba, ve lo metto nelle descrizioni perché fa vedere le differenze non solo appunto di approccio nelle politiche interne degli Stati Uniti a livello economico, occupazionale e quant'altro, ma anche il modo con cui le due parti si sono confrontate di fronte ai propri elettori, le campagne elettorali da parte repubblicana e democratica e sono molto interessanti perché veramente negli Stati Uniti da questo punto di vista sono parecchio preparati, sia se vogliamo in maniera positiva o negativa, però quando si tratta di comunicazione politica i Stati Uniti sono davvero all'avanguardia ed è un'avanguardia che spesso e volentieri ci regala insomma delle cose abbastanza inquietanti. Ma detto questo, ripeto, vi rimando a quel video perché analizza molto bene queste differenze, ma se parliamo invece della politica estera, beh, lì è sbagliato sia dire che non cambierà niente sia dire che invece cambierà tutto. Quelli che dicono che non cambierà niente sbagliano, perché? Perché basta vedere come sta avvenendo a attesa questa elezione dentro l'Unione Europea, a Bruxelles. Se voi pensate che ad esempio la von der Leyen ha messo suo, quanto pare, una sorta di task force anti Donald Trump qualora vincesse l'odiato Orange Man, no? Perché? Perché sono memori da quelle parti di quello che avvenne nel 2016, no? Con la guerra commerciale, i dazzi imposti da Washington. Piccola parentesi, non è che Biden non abbia comunque fatto del suo protezionismo, eh? Però ovviamente Trump alzerebbe di molto l'asticella proprio in difesa dell'economia americana, di quello che, se vogliamo, anche la produzione americana. Questo lui l'ha già detto chiaramente che vuole farlo. E questo ovviamente fa venire, fa sudare freddo coloro che siedono a Bruxelles, questi camerieri, questi serbi senza dignità, che vivono in questo buco nero della crescita economica mondiale chiamato Unione Europea, questa, veramente questo manicomio a 12 stelle che si sta andando a distruggere, a suicidare ormai da tempo. E appunto da quelle parti temono che Washington alzi dei muri contro l'esportazione, insomma, delle merci, delle merci europee. Sappiamo bene che la Germania ormai non è più la locomotiva d'Europa, non lo è mai stato se intendiamo un'economia in grado di trainare il resto, anzi i tedeschi hanno sempre e solo fatto i propri interessi, anche giustamente se vogliamo siamo noi che non abbiamo fatto ovviamente i nostri. Poi con il taglio della fornitura di gas tramite il tritolo, vero e proprio visto che gli hanno fatto saltare il Nord Stream 2, dove l'economia tedesca sta veramente andando a rotoli. Pensate ad esempio alla Volkswagen che ha annunciato la chiusura di interi stabilimenti, la Germania poi che ha votato contro i dazi alle auto elettriche cinesi per paura di tagliare i ponti anche con Pechino. A quel punto veramente Berlino andrebbe gambe all'aria. Ma detto questo c'è anche un altro aspetto, che è più militare strategico. Vi ricordate Draghi qualche settimana fa se n'è uscito con una delle sue stand-up comedy, le sue battutone, io credo che Draghi davvero sia un cabarettista nato, un po' come quando due anni fa fece quel discorso alle Nazioni Unite dove non ne azzeccò una e disse appunto che la Russia ormai stava per perdere in Ucraina, che le sanzioni europee avevano piegato Mosca, che l'esercito russo era ormai in ritirata, no? Andatelo a rivedere perché veramente tira sul morale. Battute assicurate, risate assicurate. Detto questo, qualche settimana fa Draghi se n'è riuscito con un discorso che insomma non è stato buttato lì a caso. Perché? Perché ha detto l'Unione Europea dovrebbe immaginarsi in grado di fare da sola quando si parla di difesa, no? Ha parlato del famoso esercito comune europeo che tanto non nascerà mai. Perché? Perché sarebbe un, non lo so, un Frankenstein che risponderebbe a chi? A quale nazione? Probabilmente sarebbe un'estensione dell'armata francese, una grande armée francese, ma sempre e solo a uso e consumo e soprattutto sotto il comando degli Stati Uniti d'America. Quindi ricordate che in questo momento storico i più grandi europeisti, cioè coloro che vogliono il bene degli europei, non dell'Unione Europea, ma degli europei, sono gli anti-europeisti, cioè coloro che puntano il dito da tempo contro l'Unione Europea dicendo guardate che questo manicomio prima crolla meglio è. Mentre invece gli europeisti, cioè i fanatici dello straccio blu a 12 stelle, sono proprio coloro che fanno di tutto per fare il male degli europei stessi, dei cittadini europei. Semmo un controsenso, ma non lo è perché di mezzo c'è un concetto che l'europeista medio non capisce, cioè quello di interesse nazionale. Ma ne parleremo in maniera più approfondita magari in un altro video. Detto questo, quindi, a Bruxelles temono che da Washington si taglino i fondi e le armi a Kiev, che è tutto ciò che letteralmente sta tenendo in piedi il fronte ucraino, che senza questi aiuti crollerebbe letteralmente domani. È già stato dimostrato come a Kursk ormai quella piccola offensiva sia stata ormai contenuta e nel Donbass, dopo la caduta di Pokrovsk, veramente i russi stanno andando avanti in maniera un po' come un rullo compressore, non a grande velocità, perché ormai è così da mesi a questa parte, ma è evidente che gli ucraini abbiano ormai grande difficoltà a contenere l'avanzata dei russi. Quindi, ecco, ripeto, con la caduta di Pokrovsk vedremo probabilmente un crollo generale di tutta quella linea difensiva ucraina. E in più c'è da aggiungere, che ormai si dice chiaramente anche sui media, sui giornalacci italici, e non solo loro, che Kiev deve essere pronta a negoziare anche una cessione di territorio a Mosca. Voi pensate, gli stessi che fino all'altro ieri ci parlavano dei russi impegnati a combattere con le pale, adesso ammettono che Kiev, per salvare le penne, dovrà probabilmente rinunciare a dei territori. No, vabbè, ma anche qui sull'onestà intellettuale di questi pendivendoli ci sarebbe tanto da dire. Ecco, però, in generale, a Bruxelles temono che con l'arrivo di Donald Trump finisca quell'aiuto da parte di Washington alle difese ucraine. O comunque che si arrivi ad un punto finale in quella guerra e a quel punto, ripeto, Bruxelles dovrebbe immaginarsi in grado di cavarsela da sola. Ma è un po' una presa in giro perché, come vi ho detto prima, l'esercito comune europeo sarebbe comunque una propagine del potere americano. Non potrebbe essere, altrimenti, perché l'Unione Europea è questo, è stata immaginata per essere questo, un parco giochi per l'alta finanza e una tomba per gli stati nazionali ad uso e consumo di Washington, dello zio Sam. Quindi qualcosa cambierebbe comunque a livello europeo qualora vincesse Donald Trump. Inoltre, va aggiunto questo, che nel Parlamento Europeo il ritorno del tycoon galvanizzerebbe parecchio quelle formazioni più conservatrici, no? Dalla Meloni a Orban, a tutte le formazioni, insomma, dalla Germania, alla FD, pensiamo, alla Francia, alla Spagna, formazioni molto diverse tra di loro e che hanno anche un grado di coerenza diversa perché Orban difende molto l'interesse nazionale ungherese, la Meloni, vabbè, anche lì, insomma, ne parleremo in maniera approfondita, ma lo faccio spesso sul mio canale. Anzi, visto che ci sono, seguitemi sul mio canale Telegram, mi trovate, metto il link sempre nelle descrizioni. Detto questo, quindi, dicevo, la vittoria di Trump avrebbe sicuramente degli effetti in Europa. Questo non lo si può negare. In più, c'è un altro aspetto, quello del Medio Oriente. Ora, nel Medio Oriente, aspettarsi che, qualora vincesse Trump o la Harris, gli Stati Uniti in qualche modo lascerebbero da solo il loro alleato numero uno, ovvero Israele, è abbastanza ingenuo. Voi sapete che, quando prendete gli Stati Uniti, vi prendete anche Israele. È un pacchetto completo, è un gemello siamese, letteralmente. Sono attaccati. Uno e l'altro. L'altro e uno. Cioè, non potete immaginarli separati. Io dico sempre, se voi prendete la bandiera americana e ingrandite sulle stelle, troverete che non sono stelle a 5 punte, ma a 6 punte. E ci siamo capiti. Quindi, ecco, il supporto americano a Tel Aviv non mancherà mai. Mai. Pensate che proprio in queste ore, lo sappiamo anche dalle foto satellitari, il Medio Oriente sta venendo riempito di B-52, di bombardieri strategici americani, in attesa della risposta iraniana che potrebbe arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Insomma, ormai, l'allerta è altissima. Quindi, gli americani resteranno sempre al fianco degli israeliani. Però, in questo momento, i più grandi sostenitori di Israele sono sicuramente i repubblicani. Questo lo ha detto anche Trump. Il quale però ha aggiunto una postilla proprio in queste ore. Parlando agli americani di origine araba, ha detto, attenzione, perché qualora vincesse la Harris, il Medio Oriente prenderebbe fuoco. E questo credo che sia stato un messaggio per dire, sì, noi siamo grandi sostenitori di Israele, siamo pronti ad aiutare l'Iron Dome israeliano, ma siamo meno interventisti rispetto invece a quella che sarebbe una guida DEM. Lo abbiamo visto, i DEM sono veramente i più guerrafondai sulla faccia della Terra. Attenzione, questo non significa che Trump non sia pronto anche a fare le sue guerre. Questo perché nel Make America Great Again rientra anche l'idea degli Stati Uniti in grado di mostrare più i muscoli ai propri avversari. Io per questo ci andrei cauto su quello che sta accadendo in Ucraina. Probabilmente la guerra in Ucraina con Trump non sarebbe scoppiata, ma questo non significa che Trump sia pronto a prendere e a ritirarsi e a fare, come dire, e a dare un messaggio di debolezza al resto del mondo. Probabilmente si sederebbe di fronte a Putin ma chiedendo anche qualcosa in cambio e dicendo attenzione perché in questo momento gli Stati Uniti sono pronti anche ad un confronto diretto. Quindi attenzione a non prendere per oro colato quelle che sono le promesse elettorali. Certamente la storia ci dice che le guide DEM alla Casa Bianca sono generalmente negli ultimi anni le più interventiste in assoluto, cioè quelli che sono andati in giro a sganciare tonnellate di tritolo a cobalino, però è un tritolo che si identifica in mazzi di rose. Quindi ecco appunto c'è la questione medio orientale in cui comunque gli Stati Uniti rimarranno al fianco di Tel Aviv ma c'è un'altra cosa di cui si parla veramente poco ma a mio avviso è quella centrale. Ne abbiamo discusso anche sui canali di Pro Italia ovvero Taiwan è lì che c'è la grande sfida è lì che c'è la grande partita ed è lì che gli Stati Uniti al netto di chi chiederà alla Casa Bianca non cambieranno strategia se così vogliamo. Ecco da questo punto di vista chi dice non cambierà niente ha ragione nel senso che stiamo comunque parlando di un impero gli Stati Uniti sono un impero e devono ragionare come un impero sono un impero talassocratico che deve la sua forza al controllo dei mari e ovviamente Washington non ha la minima intenzione di lasciare Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese perché è Pechino il nemico numero uno di Washington in questo momento e Pechino ha già annunciato la volontà di riprendersi Taiwan perché? Perché non solo per un aspetto se vogliamo storico e culturale perché Taiwan si era separato dalla Repubblica Popolare Cinese con il partito nazionalista insomma andatevi a rileggere la storia di Taiwan che è parecchio interessante ma anche perché controllare Taiwan significa controllare il mar cinese e significa controllare quello specchio di acqua che permetterebbe alla Cina di affacciarsi sull'oceano e i cinesi già sono pronti perché hanno costruito una quantità infinita di porta aeree e di navi da guerra e poi avvicinarsi ad esempio allo stretto di Malacca che si trova più a sud e da cui passa una quantità enorme una percentuale altissima di merci su un mare quindi stiamo parlando di una partita essenziale che gli Stati Uniti non vogliono perdere non gliela vogliono lasciare vinta per niente a Pechino e qualche settimana fa l'ammirario taiwanese ha annunciato cioè ha detto che secondo lui i cinesi stanno operando quella che è una strategia dell'anaconda l'ha chiamato cioè a forza di costruire queste basi su superficie sui atolli che veramente sono delle opere ingegneristiche spaventose i cinesi stanno sempre più circondando Taiwan che a sua volta invece sta venendo riempita di armi e di droni da parte degli Stati Uniti ecco lì è proprio una montagna di polvere a sparo che potrebbe esplodere da un momento all'altro e lì state tranquilli sia che vinca Trump che vinca la Harris gli americani rimarranno pronti a difendere Taiwan e a impedire alla Cina di affacciarsi sull'oceano anche perché questo metterebbe in crisi appunto l'impero talassocratico americano quindi vedete effettivamente entrambe le parti hanno sia ragione che torto chi dice non cambierà niente e chi invece dice cambierà tutto la realtà è che tutto passerà e quindi questo è il discorso principale che vi volevo fare tutto passerà da quella che è la volontà nostra di noi italiani voi direte ma come noi italiani non contiamo niente no noi italiani potremmo contare molto se avessimo l'intelligenza la lungimiranza e la forza d'animo di sfruttare quelle finestre di opportunità che si apriranno nel prossimo futuro si apriranno sicuramente perché gli equilibri mondiali stanno cambiando perché ci sono dei terremoti che stanno arrivando alcuni dei quali purtroppo riguarderanno anche dei conflitti bellici perché ormai la temperatura si sta alzando moltissimo nel resto del globo però possiamo e dobbiamo sfruttare queste possibilità certo se ci autoconvinciamo di non poterlo fare ovviamente rimarremo sempre alla finestra come spettatori della storia non invece come protagonisti o perlomeno come attori attivi della storia ecco noi facciamo spesso l'esempio della Turchia la Turchia fa parte della Nato ma la Turchia è presente lì a Kazan in Russia per richiedere formalmente o non formalmente l'entrata nei BRICS cioè saper giocare su più tavoli è il segreto in questo momento storico lo è sempre stato per prosperare voi direte ma l'Italia più di tanto non può fare l'Italia invece in questo momento potrebbe fare tantissimo perché perché ad esempio per gli Stati Uniti non sarebbe male disimpegnarsi di più dal Mediterraneo noi potremmo coprire questo buco ovviamente nell'ottica dei nostri interessi come ha fatto la Turchia sul fronte orientale e invece siamo assenti siamo assenti in Libia siamo assenti in Africa al netto di quel piano Mattei che lascia il tempo che trova siamo assenti ovunque siamo assenti anche nei Balcani se voi pensate il progetto dell'apertura di quell'hotspot in Albania su cui si sono avventati i magistrati del Partito Democratico perché sono magistrati del Partito Democratico è comunque un modo debole di affrontare questo problema quello dell'immigrazione di masse irregolare perché non rientra nel doubt d'essere internazionale cioè che cosa l'Albania è in cambio da noi cioè si sobbarcano quelli 2-3 mila migranti quanti sono e noi cosa diamo loro in cambio i soldi ma c'è chi come ad esempio la Turchia sta stipulando degli accordi con l'Albania che riguardano ad esempio la fornitura di droni e l'addestramento degli uomini ed è questo che conta molto di più in questo momento rispetto semplicemente al ti do un miliardo e mezzo per tenerti 2-3 mila migranti cioè vedete è proprio una proiezione diversa un'idea diversa ma tutto ripeto passa da noi italiani smettiamola di immaginare sperare che qualcun altro da fuori risolva i nostri problemi perché non ha mai funzionato dai tempi di Ludovico il Moro che chiamò i francesi non funziona mai siamo noi che dobbiamo prendere in mano il nostro destino ah peraltro avevo dimenticato la questione dei BRICS anche qui apro una piccola parentesi si sente spesso parlare dei BRICS come degli antinato i BRICS non sono l'antinato perché non sono un'alleanza strategica però sono diciamo un insieme di accordi commerciali di mutuo interscambio spesso anche energetico di quella parte di mondo che inizia a immaginare il globo come non per forza sotto l'ala americana e questo è sicuramente tanto nessuno deve negarlo però ecco quando Trump mi viene a dire che comunque il dollaro la supremazia del dollaro non può essere messa in discussione questo vi deve far capire che anche Trump non vedrà comunque di buon occhio la crescita dei BRICS che comunque non diventeranno mai un'alleanza militare perché dentro ci sono anche nazioni che si detestano pensiamo all'India e alla Cina ma comunque rappresenta un'alternativa economica commerciale e se vogliamo anche culturale perché è quella parte di mondo che non si è bevuta ad esempio il calice velenoso dell'ideologia woke che si sta rivoltando contro gli Stati Uniti in maniera incredibile perché è davvero una malattia autoimmune io se fossi un americano in questo momento non avrei dubbi a votare repubblicano non tanto per le politiche interne su cui spesso anche da ridire quanto per il fatto che dall'altra parte c'è l'antinazione perché i dem sono coloro che stanno fomentando quest'ideologia woke che letteralmente ama e propaganda tutto ciò che uccide una nazione fateci caso tutto ciò che può fare del male a una nazione è il fulcro dell'ideologia woke quindi se io fossi americano non avrei insomma dubbi sul chi votare per lo meno per tenere in piedi il mio paese ecco quindi il discorso che vi voglio fare è questo tutto passa da noi noi italiani e nessun altro dobbiamo autoresponsabilizzarci dobbiamo capire che nessuno penserà a noi certo possiamo ammettere che la vittoria di uno o dell'altro possa in qualche modo farci piacere a me ad esempio farebbe piacere in maniera inusitata vedere vedere il progressume vario questa mel marcobaleno scoppiare noi fegati che scoppiano come successe nel 2016 sarebbe sicuramente un bel vedere ma al netto di questo dobbiamo comunque prendere coscienza che tutto passa da noi e fatevelo dire da chi sta sul territorio praticamente tutti i giorni compro Italia la situazione in Italia è devastante è disperata voi direte grazie al cavolo no no perché bisogna analizzarle in maniera approfondita in Italia c'è stata una nuclearizzazione della politica non solo tramite il Movimento 5 Stelle ma in generale gli italiani si sentono staccati dal proprio destino agiscono solo esclusivamente come spettatori o come tifosi bisogna cambiare questa mentalità perché nulla è scritto e nulla è deciso come lo facciamo? facendoci un mazzo tanto scusate il francesismo partendo dai nostri territori agendo giorno dopo giorno ed evitando soprattutto di andare dietro chi ci dice guardate che da fuori arriverà il salvatore chi vi mette in testa questo vi sta mentendo o perlomeno non sa di cosa sta parlando quindi responsabilizziamoci e prendiamo in mano il nostro destino perché nulla è scritto non è una semplice speranza fino a se stessa anche perché speranza è una parola che abbiamo imparato a odiare per altri motivi ma veramente c'è tanto che si può fare ma abbiamo bisogno di una nuova classe politica cioè questi camerieri questi servi questi buffoni guardate quello che ha detto Tajani su su Israele sono veramente imbarazzanti però vanno sostituiti con qualcosa di diverso con nuove menti giovani magari che abbiano ben in testa l'interesse nazionale e che sappiano anche immaginare il mondo da un punto di vista nuovo sotto un'idea totalmente nuova ma ve ne parlerò anche magari nel prossimo video detto questo noi ci vediamo prestissimo questa sera da mezzanotte faremo la diretta sul canale di Pro Italia dedicata proprio alle elezioni americane vedremo chi vincerà Washington in questo momento è blindata perché si aspettano parecchi disordini qualora vincesse uno o l'altro però davvero ritorno sul concetto di prima tutto passerà dalle nostre azioni siamo più importanti siamo più forti di quanto tanti compresi noi stessi possiamo immaginare è probabile che prima o poi verlo spattuto al fresco se vuoi essere mio complice seguimi sui miei canali social e sempre se vuoi contribuisci a comprare il mio cesto di arance al link paypal presente nella descrizione del video grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti